L'arte si deve necessariamente considerare come il grado più alto, come l'evoluzione più perfetta di quanto esiste. Ci offre infatti essenzialmente la stessa cosa che il mondo visibile, ma più concentrata, più perfetta, con scelta e con riflessione. Possiamo quindi, nel vero senso della parola, chiamarla il fiore della vita. Se il mondo come rappresentazione non è che volontà divenuta visibile, l'arte è precisamente tale visibilità resa più chiara. La camera oscura che abbraccia meglio è con una sola occhiata. È lo spettacolo nello spettacolo. La scena nella scena.